Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, sono Dottor Mirx e oggi siamo tornati con una nuova analisi arma per la nostra rubrica per analisi armi su Call of Duty Ghosts. In molti mi avete chiesto l'ultimo episodio scorso, quello della Vepra, di fare un cecchino e oggi non a caso ho deciso di portare l'L-115, uno sniper secondo me molto buono perché è comunque anche molto utilizzato nel multiplayer ovviamente accanto all'USR, i due cecchini più utilizzati nel gioco. Ve lo porto diciamo un pochino divisi in due parti la prima parte che sono veramente pochissime clip con il mirino a zoom variabile e canna cromata ovviamente poi gli accessori li cambio nel corso del video, poi vi spiegherò meglio e i perk che conosciamo sempre, prontezza ad esempio, stazione rapida, gioco di prestigio, occultamento e concentrazione Allora, le prime clip che vedete sono quelle fatte con il mirino a zoom variabile che è ottimo però soltanto se le trovate o in Stonehaven o in mappe come questa, cioè Ignition comunque mappe con spazi stretti, magari nelle parti laterali, nelle parti terminali della mappa spazi molto stretti, lunghi, adatti per un fucile da cecchino se invece dovete usare un'arma con questo zoom, quindi zoom variabile, su una mappa stretta vi assicuro che sarà un inferno, perché comunque il tempo che voi preparate lo zoom per evitare magari che un nemico vi appaia vicino e voi avete lo zoom piazzato alla massima grandezza disponibile allora dovete cercare comunque di trovare anche un momento per sistemare lo zoom in base alle situazioni nelle quali vi troverete ad affrontare i nemici, che sia da vicino o da lontano se invece vogliamo usarlo su mappe un pochino più piccole, comunque anche abbastanza buone possiamo dire decenti per l'utilizzo del cecchino, allora dobbiamo cambiare secondo me il mirino ovviamente secondo la mia personale opinione, voi ovviamente potete poi scegliere che tipo di mirino utilizzare quale preferite, però se siamo su una mappa piccola io preferisco usare molto il mirino termico perché comunque lo zoom è discreto, è come se fosse lo zoom normale dell'arma leggermente inferiore però la cosa buona è che ha ovviamente l'ingrandimento con i segni bianchi che indicano i nemici quindi ovviamente è una cosa che non succede con lo zoom normale quindi con il mirino normale dell'arma non accade questo e perché mi piace molto con lo zoom con il mirino termico? perché secondo me per esempio anche nelle mappe grandi, in questo caso sto usando l'arma in mappe piccole comunque è ottimo anche in mappe piccole, certo non magari strike zone però comunque su mappe medie dà secondo me un punto in più all'arma se per esempio anche pensiamo a stone heaven però l'arma in questo caso con il mirino termico dà secondo me fiore da torcere agli avversari perché pochissima gente, ho visto giocando nel multiplayer, utilizza un perk come quello che uso io cioè a quello tipo di occultamento cioè un perk che non vi fa individuare dai mirini termici proprio come quello che sto usando io e anche traccianti quindi diciamo vi rende del tutto invisibili a tantissimi tipi di mirini usati moltissimo da altri giocatori nella modalità multiplayer quindi l'arma secondo me è ottima con il mirino termico invece per quanto riguarda la canna cromata secondo me è un accessorio essenziale innanzitutto volevo scusarmi per il video precedente perché vi ho detto che gli FMG aumentavano il danno quindi mi sbagliavo aumentare il danno però aumentano più che altro la penetrabilità la penetrazione dei colpi all'interno delle superfici mentre se volete aumentare il danno complessivo usate canna cromata quindi canna cromata che aumenta il danno e il mirino termico sono secondo me la copiata vincente per quest'arma ripeto sono ovviamente opinioni personali poi passando ai perk allora innanzitutto il tempo di ricarica che senza gioco di prestigio è molto lento è di circa due secondi e mezzo se invece gioco di prestigio viene inserito nella vostra classe allora il tempo scenderà nettamente a un secondo e mezzo quindi decisamente un guadagno molto alto in fatto di rapidità di risposta a un attacco eventuale nemico i colpi sono 5 secondo me buoni cercate però di stare attenti e di far rivalere uno per tutti cioè voglio dire cercate di uccidere un nemico con un colpo perché comunque sono molto pochi vi costringerà molto spesso a ricaricare l'arma nel caso potete inserire dei caricatori aumentati che io ho usato per un certo periodo di tempo e poi ho tolto per far spazio a questi accessori che a me personalmente piacciono di più detto questo, altri accessori particolari ad esempio estrazione rapida secondo me serve perché comunque l'arma ha un tempo di mira molto lento il tempo di reazione all'arrivo di un nemico molto lento tipo secondo me quello di una mitagliettrice leggera quindi ci vuole un pochino di tempo prima che andiate a passare in modalità mirino quindi vi consiglio PERC appunto come prontezza estrazione rapida per velocizzare molto la vostra mira nel caso vi troviate di fronte a nemici detto questo, questo è tutto, vi consiglio di passare dal mio canale personale che trovate in descrizione, ringrazio ancora tutti gli iscritti per il mio canale per invece questo video vi chiedo di lasciare un like gentilmente e anche un commento per dirmi come voi preferite utilizzare l'arma e cosa vorreste vedere recensito nel prossimo episodio pensavo magari di tornare sui fucili d'assalto e ovviamente di fare precisamente l'S-805 non so se anche a voi questa idea può andare bene però solite altre idee alternative fatemelo sapere con un commento qui dottor Miras e ringrazio di aver visto questo video ciao a tutti